Si tiene domani, dalle 14 alle 18, nella veranda del Casinò Municipale di Arco, il primo ritrovo di scambio di sementi autoprodotte, manifestazione che porta il titolo di Chiamata a raccolto. L'occasione per gli appassionati di orticoltura e agricoltori, per le associazioni, i gruppi e chiunque vorrà, di offrire, scambiare e ricevere sementi autoprodotte di piante orticole, piante selvatiche e fiori, in modo completamente libero e gratuito. La manifestazione, novità assoluta per il Trentino, è anche un momento di incontro e di relazione per la condivisione di pareri e idee, ed è organizzata dall'Associazione La Pimpinella e il Sostegno del Comune di Arco. La Pimpinella è un'associazione che si occupa di conservazione della biodiversità, in particolar modo della biodiversità in agricoltura, quello che sono le piante coltivate dai nostri nonni, le piante che si tenevano nell'orto e quelle che ci sono e che c'erano nei frutteti. Diversi anni che ci muoviamo sul territorio, lavoriamo principalmente nella provincia di Trento e abbiamo comunque agganci e collaborazioni con varie associazioni anche a livello nazionale qua nel nord Italia. Praticamente il nostro scopo principale è quello di andare sul territorio, vedere dove è presente questa biodiversità, facciamo dei censimenti, facciamo una fotografia, cerchiamo di avere un quadro di quello che è la situazione e dopodiché facciamo della raccolta sia delle sementi che delle marze, del materiale di propagazione per riuscire a moltiplicare questo materiale vegetale. Oltre a questo ci occupiamo di divulgazione, facciamo degli incontri, delle conferenze e delle uscite sul territorio per riuscire a coinvolgere la popolazione locale perché è bello tenere alta l'attenzione e riportare la voglia di coltivare e di portare avanti queste varietà. In quest'ottica quest'anno abbiamo deciso di organizzare un evento che si terrà per la prima volta qua in provincia, una giornata di scambio sementi. È una giornata nella quale chi si autoproduce le sementi, che è il detentore, il custode di questa biodiversità, biodiversità può venire, portarla e scambiarla con le associazioni, sono presenti altre associazioni o con degli altri privati soggetti che vengono e vogliono condividere quella che è la biodiversità che si tiene ognuno a casa e può riportare a diffondere.